Anche per dirti che il futuro qui ha trovato casa, qui ha trovato casa il futuro, perché il futuro inizia dal presente e dal presente. Il futuro è cominciato nel 2019, no? Eccetera, prosegue, ma finalmente qui ha trovato il luogo della gioia, della festa, della riflessione, dell'impegno, dell'impegno. Ha trovato casa qui, che mi sembra importante.